Molto legati a una persona, alla costumista che ha lavorato per i nostri costumi, è la prima volta che facciamo uno spettacolo senza di lei, perché purtroppo due mesi fa ci ha lasciati, per una malattia purtroppo non rara, è quella più diffusa in assoluto. E quindi ci faccio la piacere ricordata, il secondo, Maria Fernandio, la nostra costumista. È colpa mia, se piaccio alle donne, è il titolo della commedia teatrale che la compagnia instabile dell'ospedale Santo Bono di Napoli ha portato in scena all'auditorium comunale di Sturno. La rappresentazione, con la regge e l'adattamento del testo di Sottile a cura di Fabrizio Miano, è arrivata in Irpinia per una serata il cui ricavato è stato destinato alla ricerca sulle malattie rare e, nello specifico, alla fondazione Viva Aleonlus, intitolata alla memoria di Alessandra Bisceglia. La serata è stata organizzata dal Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi Irpinia Goleto ed ha visto come protagonisti i pediatri del Santo Bono, ospedale vomerese, eccellenza del Mezzogiorno. All'auditorium è stato grande il successo per dei medici, che oltre a svolgere egregiamente il proprio lavoro, si mettono in gioco per aiutare anche da un palco teatrale i malati. La serata di sabato a Sturno segue, dopo quasi un anno, la fortunata performance che la compagnia instabile L'Adrenalina portò sul palco del Teatro Diana di Napoli lo scorso aprile e che serviva ad acquistare, grazie all'incasso, un ecografo portatile per il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santo Bono, uno dei pronto soccorso pediatrici più affollati d'Italia.